Ragazzi è lunedì 24 aprile sono le 6 e 45 del mattino e oggi visto che è ponte faremo un nuovo giro oggi parteciperemo al raduno Carroñas insieme a Pablito e la sua gente. Ecco ragazzi arrivati al mio garage ora ci prepariamo per partire. Certo io cerco sempre di essere il più naturale possibile io sbaglio le parole sbaglio le frasi non sono come i grandi blogger imparerò piano piano ecco lì che ci aspetta il nostro 750 oggi andremo con lei tanto siamo da soli bene ragazzi in partenza no 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 Oh, filmò l'occhia! Mettolo dietro! E non vede le telecamere! Sto ci ho parlato di Venezia! Ho fatto una fine faccia un botto! Siamo in ritardissimo! Si chiusa fino all'alto! Tutti in Malaya! Raduno in Malaya! Moto Carroñas! Partiamo per Raduno Carroñas! Partenza Castellplan! Partenza Castellan Grazie a tutti. 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 È un spettacolo, un raduno completamente Himalaya. Fantastici, fantastici. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , a tutti. Grazie a tutti.